Ciao bambini, sono la maestra Colomba. Giochiamo togliendo. Adesso facciamo un gioco. Prendiamo sette fragole. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Luca ne mangia due. Uno, due. Quante fragole rimangono? Contiamole. Uno, due, tre, quattro, cinque. Bambini, con questo esempio e con quelli che avete fatto finora, abbiamo fatto una operazione che si chiama sottrazione. Come l'addizione, la sottrazione, si rappresenta con un simbolo e con i numeri. Il suo simbolo è il segno meno. Esempio. Si legge sei meno due uguale quattro. I numeri della sottrazione si chiamano Il primo numero, sei, prende il nome di Minuendo, ciò che deve essere diminuito. Il secondo numero, due, prende il nome di Sottraendo, ciò che deve essere tolto o sottratto. Il risultato, quattro, si chiama resto o differenza. Il resto si ottiene così. Partiamo dal Minuendo e contiamo all'indietro di tante unità quante sono quelle del Sottraendo. Ricopiate sul quaderno quello che avete visto e sentito. E arrivederci alla prossima lezione online con La maestra Colomba. Ciao!